Ciao a tutti, amici di Vanilla. Oggi parliamo di letteratura, ma più che di letteratura, di una figura della letteratura italiana, Giacomo Leopardi, croce e delizia di moltissimi studenti del liceo. A me personalmente non è mai piaciuto, chissà se sia stata colpa della scuola o proprio il suo stile, oppure io che non guardavo con gli occhi giusti. Ad esempio, ho amato molto di più Giovanni Verga di poco successivo. Prima di vedere la vicenda di Giacomo, vi chiedo tre piccoli contributi. Cliccate sul tasto like, sul tasto iscriviti se non siete iscritti e lasciate un commento, anche con un suggerimento per l'argomento di un prossimo video. In tutti questi modi aiuterete il nostro progetto di divulgazione culturale. Grazie mille. Ah, visto che me l'avete chiesto ancora in tanti, e in tantissimi le avete già comprate, le magliette che indosso le trovate sul sito di Pampling, questo ad esempio a Tema Star Wars. Mi raccomando, usate il codice sconto vanilla. A voi regaleranno un paio di calze e a me del credito per portare altre grafiche nei video. Viene tradizionalmente attribuita a uno dei massimi pittori del Novecento italiano, Renato Guttuso, che l'avrebbe pronunciata sul letto di morte assistendo alle prime schermaglie del successivo conflitto giudiziario, che avrebbe opposto non solo in tribunale ma pure sui mass media tutti i suoi eredi, la frase per cui in questo c***o di paese non si può nemmeno morire, che esprime alla perfezione un grado di esasperazione perfettamente comprensibile alla luce di tutti gli avvenimenti, sia precedenti sia successivi. Non sappiamo se molto tempo prima anche il sommo Dante Alighieri abbia mai detto qualcosa del genere, anche se calza parecchio con il suo personaggio. Ma è certo che nessuno può mettere in dubbio la frase di un ignoto studioso per il quale Dante patì in vita i fiorentini e in morte i dantisti. I primi che lo condannarono a morte e lo esiliarono, e i secondi che, in mancanza di notizie certe su molte circostanze della sua vita, la romanzarono in tutti i modi, al punto tale che oggi è difficilissimo, per chi non sia un esperto della materia, distinguere la realtà dalle invenzioni. Il fatto che tale destino sia toccato al sommo poeta non dipende soltanto dalla lunga distanza temporale che ci separa da lui. Altrettanta sorte è toccata infatti anche a Giacomo Leopardi, dal quale ci separano solo due secoli e sul quale dovremmo disporre di fonti molto più fitte e precise. Il fatto è che Leopardi, come tutti gli intellettuali di una certa complessità, tende a essere sfuggente, inclassificabile secondo le tipiche tassonomie accademiche e di conseguenza rivendicabile, più o meno in modo superficiale o addirittura in malafede, da chiunque abbia bisogno di una figura illustre per portare acqua al proprio mulino. Soprattutto nel XIX secolo Leopardi si ritrovò oggetto di ogni sorta di interpretazioni in questa o in quella chiave, interpretazioni per lo più strumentali e basate spesso e volentieri sulla pura invenzione. A questo caravan serraglio di giudizi avventati e contradditori, ma ancora ampiamente diffusi, è dedicato l'interessantissimo saggio Storie di casa Leopardi, pubblicato nel 1986 dallo scrittore livornese Mario Picchi, un intellettuale oggi ingiustamente dimenticato. Dalle pagine di Picchi apprendiamo che a questa situazione contribuirono anche le circostanze della sua prematura e imprevedibile scomparsa. Come è noto, dopo aver provato in tutti i modi a emanciparsi dalla oppressiva tutela dell'ingombrante padre, il conte Monaldo, Leopardi era riuscito finalmente ad allontanarsi da Re Cananti e a farsi una sua vita a Napoli, dove conviveva dal 1830 con un amico un po' intellettuale, un po' avventuriero, più avventuriero che intellettuale, Antonio Ranieri e la di lui sorella Paolina. Sulla natura del rapporto che legò Ranieri e Leopardi sono scorsi inevitabilmente fiumi di inchiostro. Non pochi hanno creduto di identificare in esso una relazione omosessuale con la pia sorella, ignara di tutto, a fare da chaperone. Altri hanno ipotizzato che Ranieri abbia sempre coltivato il progetto di far sposare Paolina all'amico, in modo che, alla dipartita di questo, essa potesse divenirne a sua volta erede, a tutto vantaggio del fratello, al quale era unita da una assoluta dipendenza psicologica. Purtroppo, per loro, Leopardi morì prima del padre e, in ogni caso, il disegno di sposare la pia Paolina, se ci fu, non ebbe la possibilità di concretizzarsi. Il 14 giugno del 1837, due settimane prima di compiere 39 anni, mentre Ranieri stava organizzando il trasferimento di tutti e tre a Torre del Greco per allontanarsi dal rischio di contrarre il colera durante una delle epidemie che periodicamente colpivano la città di Napoli, le condizioni fisiche del poeta, che già non scoppiava di salute, si aggravarono improvvisamente, portando la morte repentina nonostante il pronto intervento del suo medico, il dottor Mannella. Nelle settimane immediatamente successive, Ranieri iscrisse tre volte al padre di Leopardi per raccontargli prima della scomparsa del figlio e poi degli ultimi mesi della sua vita. Dipinse Leopardi come una specie di figura angelica, piena di amore sia verso Ranieri stesso e Paolina, sia verso la sua famiglia lontana. C'è da dire che il sodalizio Leopardi-Ranieri, dato che nessuno dei due svolgeva un lavoro stabile, si manteneva soprattutto grazie all'appannaggio, non certo esagerato, vista la tirchieria del personaggio, che Monaldo aveva concesso al figlio dopo lunghe ed estenuanti trattative, e che quindi la scomparsa di Leopardi significava per fratello e sorella il rischio di ritrovarsi di nuovo in ristrettezze economiche, così come era stato prima che incontrassero Leopardi. Infatti, nelle lettere di Ranieri l'accento è posto prima di tutto sulla devozione di Paolina all'amico, quasi sempre infermo, da lei accudito e curato come un'infermiera, anzi come una madre, sicuramente molto meglio della vera madre del poeta Adelaide Antici, donna notoriamente anaffettiva, e puntualmente. Ranieri trovava sempre il modo di sottolineare come la stessa Paolina avesse sicuramente meritato di comparire nel testamento di Leopardi, se solo avesse avuto il tempo di eredigerne uno. Il conte Monaldo, tuttavia, non era minimamente sensibile a queste richieste, così come si lasciava disinvoltamente scivolare addosso tutta la pioggia di complimenti che, da Ranieri e da altri, accompagnavano la figura del figlio. Per lui, Giacomo, era sì un intellettuale di un certo livello, ma non poteva certo essere messo a confronto con lui, il conte Monaldo Leopardi, il più grande scrittore del suo tempo, talmente grande che, se non fosse per la fama del figlio, oggi nemmeno a Re Canati si ricorderebbero che è esistito. La sua sordità alle richieste di Ranieri determinò un cambiamento nella prospettiva con cui Ranieri presentava la figura di Giacomo Leopardi. Nel tempo, le sue narrazioni proposero un poeta sempre meno angelico e sempre più terreno, per certi versi anche troppo, soprattutto dopo la morte di Paolina, avvenuta nel 1878, senza che questa avesse mai ricevuto nulla dalla famiglia Leopardi, quando Ranieri si mise a scrivere un imbarazzante testo che sarebbe poi uscito nel 1880 con il titolo «Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi». Nel testo, la convivenza con il poeta è raccontata come un vero inferno, perché sembra Leopardi non aveva orari, spesso teneva tutti svegli per notate intere con le sue malattie vere, inventate o esagerate. Passava da un medico all'altro, ma non eseguiva mai le prescrizioni, tanto che, citando Ranieri, perseverava con i più incredibili eccessi. Il caffè, lo sciroppo del caffè, la limonea, lo sciroppo di limone, il cioccolato, lo sciroppo di cioccolate, e non senza le vaniglie, rigorosamente evitategli. E così, via via, e quanto ai gelati, era un furore. Appena pochi giorni prima di morire, Leopardi si sarebbe addirittura ingozzato di confetti, due cartocci di una libra e mezzo l'uno, vale a dire circa un chilo e tre, fatti arrivare apposta da Sulmona. Sulle cause della morte del poeta, riguardo le quali inizialmente era stato ambiguo come spesso si usava a quel tempo, raccontò una versione coerente con quanto narrato sul rapporto fra il poeta e il cibo. Leopardi, mentre mangiava una minestra calda, avrebbe visto che era stato portato a tavola del gelato e si sarebbe avventato sullo stesso, ingurgitandolo a grandi cucchiaiate. Lo sbalzo di temperatura tra esofago e stomaco avrebbe così portato a una congestione, aggravata dalle sue già cattive condizioni di salute, che sarebbe poi evoluta in un collasso cardiocircolatorio. La frase sempre riferita da Ranieri, con cui Leopardi gli avrebbe annunciato il suo malezzere «Io non ti veggo più» può facilmente essere indicativa di un brusco calo della pressione sanguigna. Ranieri racconta anche altri particolari della loro convivenza, al limite del comico, che all'epoca, tuttavia, suonavano più normali di adesso. Ad esempio, Leopardi trascorreva ore in bagno a leggere qualcuno dei tanti libri che gli venivano spediti in omaggio dagli editori con cui collaborava, e, se il testo non gli piaceva, man mano che andava avanti, ne convertiva le pagine in carta igienica, invitando anche Ranieri e Paolina a fare lo stesso. Se, all'inizio, pur di ingraziarsi il bigottissimo Monaldo, Ranieri si era persato da avvallare perfino la fantasia del padre gesuita Carlo Maria Curci, per la quale il poeta si sarebbe convertito in articolo mortis dopo anni di ateismo dichiarato, a distanza di tanti anni, anche questa situazione era mutata completamente. Leopardi non si era neanche sognato di convertirsi, nemmeno in punto di morte. Va anche detto che a questa miracolosa conversione non aveva creduto neanche un uomo sinceramente religioso e altrettanto sinceramente amico di Leopardi, il sacerdote e scrittore Vincenzo Gioberti. Certo è che il libro di Ranieri mise i parenti di Leopardi in seria difficoltà con i loro compaesani, gli Re Canati. Prima di allora, nessuno aveva mai rivelato nulla sul pessimo rapporto che c'era sempre stato tra i Leopardi e i Re Canatesi. Per i notabili della cittadina marchigiana, che già da qualche tempo si facevano un vanto con i forestieri dell'onore di vivere nella stessa cittadina di un così grande artista, non fu certo un momento di particolare letizia quando scoprirono che l'artista stesso era solito definirli gente zotica e vil, o con altri epiteti non meno pesanti. I critici del tempo, tutti impegnati a costruire un santino di Leopardi patriota e buon cristiano, fecero di tutto per liquidare il libro di Ranieri come l'opera di un vecchio completamente rimbambito. Infatti, ancora oggi se ne parla poco. Il libro di Picchi non si limita ai contributi di Ranieri, ma esamina anche quelli dei cosiddetti tre moschettieri che, forti della loro reputazione accademica, scrissero poderosi tomi per elogiare la famiglia di Leopardi e la figura di Monaldo in particolare, Giuseppe Piergilli, Giuseppe Cugnoni e Prospero Viani. Sembra che sia stato proprio il libro Diviani a far infuriare Ranieri fino al punto da indurlo a scrivere il suo sodalizio. I Leopardi, per reazione, ingaggiarono un ulteriore studioso, un tale che se ne era andato in Francia perché non trovava spazio nelle università italiane, Camillo Antona Traversi, che non esitò ad attribuire a Giacomo Leopardi tutto il peggio pur di presentare i suoi parenti sotto la luce migliore. Non si sa se ridere o piangere poi leggendo che l'editore delle opere di Leopardi, Le Monier, inserì un'antologia di sue poesie e prose nella collana Biblioteca delle Giovinette, destinata soprattutto alle ducande nei collegi, in cui la curatrice Caterina Pigorini-Iberi lo propose come un esempio negativo per indurre le giovani lettrici a riflettere su quale destino aspettasse chi abbandonava la fede. Cesare Lombroso, in uno degli innumerevoli saggi che gli sono valsi l'appellativo di peggior scienziato del mondo, ipotizzò non solo che Leopardi fosse un alienato, ovvero un pazzo, ma anche che una vena di pazzia fosse sempre stata presente nella sua famiglia. Per qualche tempo, a partire dal 1933, non pochi studiosi si accapigliarono a proposito di un argomento dalla profondissima portata poetica, ma Leopardi aveva frequentato delle prostitute durante il suo soggiorno a Roma nel 1822. Anche un critico dell'importanza di Francesco De Santis ebbe un rapporto contraddittorio con Leopardi. Lo aveva direttamente conosciuto la scuola di lingua italiana aperta a Napoli dal marchese Basilio Puoti, dove il poeta era stato ospite nel 1835. A quel tempo De Santis aveva una passione smisurata per Leopardi. Nel tempo, però, tale passione si raffreddò. Piano piano De Santis si convertì alla corrente più favorevole alla famiglia Leopardi. Nel 1876 arrivò ad affermare che gli iscritti di Leopardi erano essenzialmente i vaneggiamenti di un nevastenico. Insomma, al di là del valore oggettivo e universale riconosciuto oggi al grande poeta e scrittore, se potesse parlare, Leopardi si dichiarerebbe senz'altro perfettamente d'accordo con il giudizio di Guttuso. In questo cazzo di paese non si può nemmeno morire. Alla fine del video non posso non leggervi la sua poesia più celebre, L'Infinito, un canto letterario amato anche dai più impietosi detrattori di Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'Eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar è dolce in questo mare.